Siamo qui questa mattina col signor Carlo Boccia per un ricordo del professor Piero di Stasio scomparso recentemente. Il caro Piero, mio amico, ci ha lasciato il 29 giugno, molto prematuramente, all'età di 55 anni. Piero è un appassionato come me di storia locale e lui era archivista dell'archivio di Santa Croce e del Carmine. Era un punto di incontro di molti appassionati di torre e di persone di cultura che volevano sapere. Noi ci incontravamo di sera sul Sagrato della Chiesa e progettavamo le nostre uscite oppure progettavamo degli articoli da mettere sui social. Il nostro era una passione, ma oltre alla passione nostra, noi avevamo quell'idea di spiegare ai torresi la nostra storia millenaria, quelle che non sapevano. Infatti molte volte ci facevano delle domande inesistenti, domande inutili. Dicevano, dove avete preso queste notizie? Chi ve le date? Tipo quattro altarie, del greco che stava a torre, la torre di Vassana che era la nostra torre. Tutto sbagliato. E questo lo facevamo apposto per fargli capire in che luogo viviamo. Noi viviamo in un luogo a Torre del Greco, che è uno dei più bei posti, questi sono racconti degli antichi cronisti dell'epoca, del Golfo di Napoli. Ci abbiamo delle peculiarità che non hanno altre città, che potremmo attrarre i turismi. E poi io e lui abbiamo notato altre cose. Cioè, Torre del Greco adesso è degradata. Però facendo conoscere ai torresi il valore che ha la città, può darsi che la rispettano meglio e la trattano meglio. Oltre che divulgatore, era anche uno scrittore. Sì, era un archivista del Carmine della Santa Croce. E da questi libri ha tratto notizie di cui ha scritto i cognomi vesuviani e i 500 anni della storia della chiesa di Santa Croce. Però purtroppo il secondo non è stato pubblicato e adesso, credo alla famiglia, faremo il possibile per farlo pubblicare. Che è una testimonianza della nostra città. Grazie a tutti.